Oltre 200.000 fedeli attesi per domani alla reggia di Caserta in occasione della messa che Papa Francesco celebrerà alle ore 18, momento culminante della sua visita pastorale nel giorno della festa dedicata alla patrona Sant'Anna. Una visita del Pontefice divisa in due tappe, una pubblica ed una privata. Lunedì prossimo per incontrare il pastore evangelico Giovanni Trettino, della spiritualità pentecostale, suo vecchio amico dai tempi di Buenos Aires, uno dei leader evangelici italiani più attenti al dialogo con i cattolici. Il tutto durerà circa quattro ore e si svolgerà interamente nell'area della reggia. Papa Francesco partirà in elicottero alle 15 dall'eliporto del Vaticano per atterrare alle 15.45 in quello della scuola sotto ufficiali dell'aeronautica militare presso la reggia di Caserta. Alle 16 è previsto l'incontro con i sacerdoti della diocesi nel circolo ufficiale dell'aeronautica, sempre nella reggia. Alle 18 la messa sulla piazza antistante la reggia borbonica. L'omelia sarà l'unico discorso pubblico previsto nella giornata. Finita la celebrazione, alle 19.30 il Papa ripartirà in elicottero con arrivo in Vaticano alle 20.15. Enorme lavoro di prefettura, questura e comune che hanno predisposto in tempi brevi tutte le misure di sicurezza necessarie. La visita del Santo Padre è stata infatti ufficializzata solo giovedì scorso. Dall'incontro avuto in Vaticano a Santa Marta il 19 giugno scorso con alcuni pastori evangelici è nata la decisione del Papa di recarsi a Caserta. Inizialmente la visita doveva essere solo privata, ma la coincidenza il 26 luglio con la festa patronale di Sant'Anna e il fatto che le indiscrezioni sul suo arrivo erano cominciate a circolare ha portato Papa Francesco alla decisione di celebrare la festa in forma pubblica con i cittadini campani che hanno fortemente richiesto la presenza del Papa attraverso il Vescovo Giovanni D'Alise nominato il 21 marzo scorso dallo stesso Bergoglio che con il cuore pieno di gioia ha parlato della visita ufficiale ma del tutto familiare alla diocesi una visita nata tutta dal cuore del Papa e perciò da lui voluta e desiderata.